Si avvicinano le elezioni amministrative, sotto i riflettori ci sono i nomi dei possibili candidati alla carica di sindaco, in attesa che il quadro si definisca le ipotesi sono tantissime. Nelle ultime ore a tenere banco era stata la possibile convergenza tra centrodestra e centrosinistra intorno al presidente dell'ordine degli avvocati, Fabio Benigni. Nel campo moderato di Matrice De Midiana, invece ad emergere dopo che per mesi si era già parlato dell'ex manager del Moscati, Pino Rosato, inizialmente si era fatto il nome del gastroenterologo dell'ospedale di Ariano, Luigi Pasquale, ma con una nota lo stesso medico ha smentito la notizia. Ho letto con sorpresa che se era stato proposto da qualcuno, naturalmente a mia insaputa, quale candidato sindaco di Avellino in rappresentanza del centrosinistra, ringrazio la persona o le persone a me sconosciute che hanno voluto onorarmi della loro considerazione per una missione così alta e nobile, tuttavia mi vedo costretto a smentire il bel che minimo interesse per l'attività politico-amministrativa. Nell'area del Partito Democratico ci sarebbe Umberto del Basso De Caro, che potrebbe esprimere una propria candidatura con Enza Ambrosone o Donato Pennetta. Dall'altro c'è Gianluca Festa, che è già al lavoro per definire due liste di candidati. Da non dimenticare poi i nomi sempreverdi di un altro medico, Gennaro Bellizzi e del prefetto Raffaele Cannizzaro. Nel bacino dei Democrat però bisogna inserire anche la candidatura dell'ex presidente della provincia, Luigi Anzalone, mentre resta da sciogliere il nodo sulla dimensione politica di Luca Cipriano. Sempre a sinistra resta da capire come si muoverà l'ala dei liberi uguali legata al consigliere regionale Francesco Todisco, che sembra intenzionata a puntare su un progetto di centro-sinistra largo e discontinuo rispetto all'esperienza Foti.